buongiorno un saluto a tutti e tutte mi presento io sono danilo ferrin psicologo e artista e presento domenica 3 luglio dalle 10 alle 18 il laboratorio integrale di crescita personale che cos'è il laboratorio integrale di crescita personale è uno spazio per sostenere e sviluppare l'integrazione della persona il suo equilibrio la sua armonia la sua unità come da un lato facendo esperienza ricercando sperimentando e percependo il nostro sé interiore dall'altra ascoltando accettando riconoscendo le nostre limitazioni attuali mettendo insieme l'uno e l'altro aspetto lavoriamo per sviluppare le nostre risorse per crescere il laboratorio di domenica 3 luglio che propongo domenica 3 luglio ha un tema in particolare la fiducia in se stessi così come ogni laboratorio che propongo c'è un tema in particolare e riguardo a questo quello che puoi aspettarti se partecipi è di lavorare insieme ricercare e chiederci domandarci che cosa vuol dire la fiducia in se stessi che cosa vuol dire l'autostima come si possono accrescere le nostre risorse interiori che differenza c'è fra autostima e narcisismo cercando di sperimentarlo direttamente concretamente nella nostra esperienza e non solo con le parole grazie a tutti